Un messaggio da Mordred Qualcuno pagherà col sangue! Un messaggio da Vlad l'Impalatore Stolti! Suonate la ritirata! In posizione! Ci muoviamo! In marcia! Avanti! Ordine di battaglia, signore! Forza! Andiamo! Il magazzino è pieno, mio signore. Di corsa! Palestriere in movimento! Subito! Posizione assegnata! Siamo qui! Cosa desiderate? Subito! Servono altre reclute, Sire. Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Avanti verso il nemico! Grazie alla visita del Vescovo, il nostro castello ha guadagnato molto onore, Sire. Un nemico sta preparando un uovo di drago. Un messaggio da Mordred. Avanti, soldati! Rivendico ciò che mi appartiene! Servono altre reclute, Sire. Con piacere! Andiamo! E muoviamo! Un messaggio da Mordred. Scatenate l'Inferno su di loro! E in marcia! Avanti! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. L'assedio abbia inizio! Un messaggio da Mordred. È così che deve essere! Il mio regno è in rovina! Le nostre truppe sono state attaccate! Un messaggio da Mordred. Qualcuno pagherà col sangue! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Ah, stolti! Suonate la ritirata! Un messaggio da Mordred. 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 Il magazzino è pieno, mio signore. Sire, sei il più valoroso del reame. Non hai abbastanza oro per addestrare questa unità. Non hai abbastanza oro per addestrare questa unità. Occhi aperti, ragazzi! Non hai abbastanza oro per addestrare questa unità. Servono altre reclute, Sire. In marcia! Ci muoviamo! Attenti! Un nemico ha covato un drago. Fammi combattere! Qual è? Voglio combattere! Brumenti pronti! Un messaggio da Mordred. Avanti, soldati! Rivendico ciò che mi appartiene! Grazie alla visita del Vescovo, il nostro castello ha guadagnato molto onore, Sire. Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Avanti verso il nemico! Un messaggio da Mordred. Ora! Attaccateli ora! Un messaggio da Mordred. Eccellente! Un altro territorio è caduto. Il nemico sta demolendo le nostre strutture! Un messaggio da Mordred. Qualcuno pagherà col sangue! Vado! Yes, little one. Yes, little one. È una buona giornata per combattere! What is it this time? Sire! Ordine di battaglia! Controllare le armi! Forza! Andiamo! Andiamo! Le nostre truppe sono state attaccate! Un nemico sta preparando un uovo di drago. Balestre! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. L'assedio abbia inizio! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Un messaggio da Mordred. Feggia! Via dalle mie tre! Fammi combattere! Cento puzza di guai! Cento puzza di guai! Mi comanderai? Abbiamo aperto... Un messaggio da Mordred. No! Non mi inginoccherò mai dinanzi a te! Il magazzino è pieno, mio signore. Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Ah! Stolti! Suonate la ritirata! Cento puzza di guai! È una buona giornata per combattere! Finalmente! Di corsa! Balestrieri in movimento! Subito! Signore! Andiamo! Mi comanderai? Armi in spalla! Il magazzino è pieno, mio signore. Mi manca il gelo invernale. Mi manca il gelo invernale. Mi manca il gelo invernale. Con il potere dell'inverno. Il magazzino è pieno, mio signore. Sì, signore! Sì, signore! Certo! Qual è il piano? Pronti, signore! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Avanti verso il nemico! Ai vostri ordini! Bene! Bene! I nostri archi sono impazienti. I vostri leali arcieri. I nostri archi sono tesi. Uomini! Ai posti di combattimento! Il magazzino è pieno, mio signore. Ci muoviamo! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Squinzagliate i mastini da guerra! Le nostre terre sono minacciate dai lupi, mio signore. I popolani sono piuttosto preoccupati. Sì, ai vostri ordini, signore. Soldati pronti! Soldati! Alle mura! Sono la regina dell'inverno. Vi ascolto. Il magazzino è pieno, mio signore. Un nemico ha covato un drago. L'esercito ha raggiunto la dimensione massima. Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Ah, stolti! Suonate la ritirata! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Un'altra terra è ora nelle mie mani. Le nostre truppe sono state attaccate! Fate strada! Il magazzino è pieno, mio signore. Yes, little one. Cosa c'è? Una passeggiata. Sento puzza di guai. Ci muoviamo! Che cali l'inverno! Sì? Con piacere! Avete un favore da chiedermi? Pronti! Il magazzino è pieno, mio signore. Cosa c'è? Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Ah! Chi osa toccare le mie terre? Siamo in marcia. Arcieri, prepararsi! Subito! Sì, sì. È necessario organizzare un ballo alla rocca. Il castello guadagnerebbe molto onore, mio signore. Le nostre corde sono tese. Arcieri in movimento! What is it this time? Il gigante? Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Avanti verso il nemico! Il magazzino è pieno, mio signore. Non hai abbastanza oro per addestrare questa unità. That is not distanzful. Non hai abbastanza oro per addestrare questa unità. Servono altre reclute, Sire. Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Squinzagliate i mastini da guerra! In partenza! Cosa vuoi? Servono altre reclute, Sire. Le scale del nemico sono addossate alle mura! Il nemico sta demolendo le nostre strutture! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Ah, stolti! Suonate la ritirata! Impossibile costruire in questa posizione, mio signore. L'Esercito sta per raggiungere la dimensione massima. L'Esercito ha raggiunto la dimensione massima. Sire. Per tutto ciò in cui crediamo. Cosa? I cieli ci appartengono. Ho sentito la vostra chiamata. Fino alle stelle! Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Avanti verso il nemico! Indicateci il bersaglio. Sì. Portami dal nemico! Le nostre truppe sono state attaccate! Ho sete di sangue! Sì? Dov'è che si combatte? Yes, little one? Oh, sì. Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Squinzagliate i mastini da guerra! Il magazzino è pieno, mio signore. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sì? Cosa c'è? Ho sete di sangue! Nessun problema. Cosa volete dalla vostra regina? Un messaggio da Vlad l'Impalatore. Stolti! Ah, stolti! Suonate la ritirata! Il morale degli uomini è alto. Come? Attraverso le nuvole. Cosa c'è? Cosa? Genieri in movimento! Cosa desiderate, signore? Arcieri! In marcia! Nel cielo! Un nemico sta preparando un uovo di dado. Cosa c'è? Portami dal nemico! È necessario organizzare un ballo alla rocca. Il castello guadagnerebbe molto onore, mio signore. Le nostre truppe sono state attaccate! Il magazzino è pieno, mio signore. Servono altre reclute, sire. Chi mi chiama? Mi comanderai? Arcieri pronti! Avrete il nostro aiuto. L'esercito ha raggiunto la dimensione massima. Cosa vi affligge? Cosa vuoi? Dov'è che si combatte? What is it this time? Il magazzino è pieno, mio signore. Chi ci chiama? Voliamo! Ascoltiamo! Ai vostri ordini! Ottima mossa, signore! Volete il mio aiuto? Come il gelido vento. Un messaggio da Vlad l'impalatore. Aprite i cancelli! Liberate i cani! Voglio combattere! Un messaggio da Vlad l'impalatore. Hai commesso un grave errore distruggendo il mio castello! Il magazzino è pieno, mio signore. Il loro castello non resisterà a lungo. Cento puzza di guai! Voglio combattere! Abbiamo aperto una breccia, mio signore. I vostri leali arcieri. Siate rapido. Un messaggio da Vlad l'impalatore. Inzagliate i mastini da guerra! Un magazzino è pieno, mio signore. Avete delle richieste? Le cucine del nemico sono state demolite. Cosa vuoi? I nostri archi sono tesi. Ottimo mosso, signore. Un messaggio da Vlad l'impalatore. Stolti! Suonate la richiata! I nostri popolani sono soddisfatti del nuovo sistema idrico, mio signore. Le nostre truppe sono state attaccate! Pronti! Occhi aperti, ragazzi. Al vostro servizio! Voglio combattere! Cosa vuoi? Ottimo! L'armeria del nemico è stata rasa al suolo. Abbiamo aperto una breccia, mio signore. Il magazzino è pieno, mio signore. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Assubbri. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? È un »Cosa vuoi? Il loro castello non resisterà a lungo. Il loro castello non resisterà a lungo. Un messaggio da Dietrich. Sono pronto a spaccare un po' di teste.